primissimo video un paio di costruzioni un paio di lifehakes per minecraft allora mettiamo queste piante e come potete vedere adesso vediamo dei pomodori si però gli mettiamo degli armastanti scusate degli armastanti sopra levando questo poi facendo così 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 gli armastanti faranno sembrare queste rose una coltivazione di pomodori prossimo lifehakes no, non ho chiesto più allora si mette questo cosa qua poi poi c'è una coltivazione di pomodori la fornace usate usate le tizzerine andiamo che bello mettiamo un po' con il taseno allora facendo così e poi così poi sopra una coltivazione di pomodori che guarda verso di là si creerà un piccolo robottino come lo volete chiamare un piccolo spaventapasseri non lo so che ve lo volete chiamare ora lo faccio vedere di faccia e giù se volete ci potete mettere anche anche i parafugli faccio vedere una coltivazione di pomodori ora lo faccio vedere e qua facciamo così vediamo film film se mi riesco a tutta il suo buco film ecco qua ora è diventato robottino così allora passiamo passiamo alla costruzione la prossima costruzione è questa allora avete presente quando non si vede come applicare il nostro letto in minecraft infatti vi faccio una spiegazione allora facciamo così uno due facciamo quattro due vengono chi li fa quanto volete vi li faccio avuto così tre due ok ok pronto facciamo così ora facciamo due di questo mi sembra sbagliato quindi cancelliamo questo facciamo più di questi poi scaletta scaletta ovviamente non è una cosa buona sbagliamo a metterla perché non voli mi vorresti allora se mi domandate perché non volo è per comodità perché che quando faccio queste costruzioni bisogna scifruttare un casino quindi preferisco farlo basso stare a terra allora poi si piazza il letto mettete due qualche blocco non funziona così mamma mia che sfiga allora fate così uno due tre 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 quattro ok perfetto perfetto cancelliamo queste cose qua i masugi che ho combinato ci abbassiamo prendiamo il letto mettiamo il letto ora sembra abbassandoci mettiamo le recensioni allora questo viene anche con i cartelli ma io ho provato con le recensioni perché prima facendo un po' di prove per capire come avrei dovuto fare questo video ho visto che si poteva fare anche con i come si chiamano vabbè avete capito i i cartelli facendo con i cartelli ma noto che viene più bello quindi dopo vi farò vedere come viene con i cartelli così sapete anche come farlo se preferite con il cancelletto o con i cartelli canneccia allora ora faccio così così giudiamo il cancelletto ed ecco qui avete una piccola ramaca invece senza con con il cartello viene così che viene molto ma molto meglio ok ok allora ora la prossima costruzione si fa così allora non la tengo preparato quindi faccio un piccolo taglio mi preparo mi preparo il tutto e vi farò vedere la costruzione allora ragazzi la prossima cosa la prossima costruzione che dovrò fare è più tipo l'ac non è una trascina non non è tipo l'ac però è tipo l'ip sarei però usate per usare la pioggia allora le abbiamo la pioggia e la pioggia no sbagliate allora diamo questo e già lo ho scoperto allora no come si faceva mi ricordo più come si faceva allora ecco come vedete si succede quello allora se gli date la pozzetta lì se riesco a non romperlo ogni 5 secondi forse riesco a farlo vedere e farlo vedere il ecco eccolo la posa giusta stupida cosa allora mettiamoli qua andamoli in vetro lo facciamo così cosa cosa lo scusate lo scusate per questo effetto che funziona un po' vabbè adesso arrangeremo così lanciando lui diventa visibile visibile lanciando poi la posizione della visione notturna e vedete attraverso i blocchi se tipo fate la zona più profonda riuscite anche a vi serve per forza la visione notturna perché poi sarà un po' complicato riuscire a vedere riuscire a vedere perché ad essere più profonda sarà complicato vedere allora passiamo subito alla prossima costruzione che è una costruzione che non vi dico ora che non vi dico ora ma per alcuni è utilissima e anche carissima vi dico vorrebbe stare molte salite del genere quindi se avete una coppia di piaccare allora questa è una mia preferenza che vi devo dire che mi piace molto casino allora si fa così no si fa così poi così poi così e poi la prima volta non ho sbagliato così ora fate così abbassandovi vedete qui no non funziona allora questo ve lo dico per quelli che stanno in java edition allora mettendo i carpet poi una volta messi i carpet si vedevano un po' i cartelli perché dovevano essere più alti dei carpet dei carpet allora o l'hanno levata questa funzione oppure funziona solo in java edition allora poi questa cosa che vi ho fatto vedere mi sono dimenticato di video e tutto ora solo in drog edition comunque per oggi questo è tutto se volete che continui se volete che faccia una serie sopra su questo su minecraft ditemelo e io vi porto altre costruzioni per oggi ciao ci vediamo alla prossima